Vietato ai minori di 18 anni, Letizia Moratti Se mi voti ti tolgo le multe, le copas, e ti offro anche E perché lo fai? Ehm, eehm, 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 eehm E thasad, eehh Are, E thasad La 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 e e e la 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 lasica la 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 lasica e la 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 lasica importante, politico, storico, de Craxi la 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 e pa pa, e pa pa, e pa pa, e Craxi. Importante. Politico. Storico. Craxi. La. 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 Siga. Questo è un video satirico. Frutto di una manipolazione grafica e sonora che non corrisponde alla realtà. Non vuole essere offensivo, solo divertente e far pensare. Vietato ai minori di 18 anni. La foto contenuta è un fotomontaggio, non contiene nudita. Ogni parte del corpo sensibile è stata oscurata. Anche le tette. Ripensare la figura di Craxi. La, 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 la.